Sviluppi nel caso Resinovich, l'indagine prosegue, ma nuovi interrogativi emergono. La fase successiva dell'indagine sulla morte della 63enne Liliana Resinovich sta continuando, ma dopo l'esame dei documenti investigativi, nuove incertezze vengono alla luce. Questo è Reality Italiano, il tuo canale di notizie e gossip. Iscriviti al canale, e metti like al video per supportarci, grazie. Nella seconda fase di indagine sulla tragica morte di Liliana Resinovich, emergono nuove sorprendenti rivelazioni che gettano ulteriore luce sui contorni oscuri di questo enigma. L'indagine, ora estesa anche all'ipotesi di omicidio, affronta 25 punti cruciali, spianando la strada per una comprensione più profonda della verità celata dietro questo intricato giallo italiano. Ma le carte dell'indagine non sono prive di incertezze. A dispetto dell'ampia mole di documenti, alcune questioni continuano a sfidare una risoluzione definitiva. L'attenzione si concentra sulle lacune nella lista delle telecamere richieste alle Trieste Trasporti. Perché manca la traccia della telecamera della linea 12? E cosa nascondono le telecamere della Guardia di Finanza che sorvegliano il vicolo dei roveri? Questi enigmi lasciano spazio a una serie di ipotesi che invogliano a scavare ancora più a fondo. Un dettaglio intrigante emerge dalle immagini. Liliana, nel giorno fatale, passa vicino alla linea 12, una telecamera che potrebbe offrire una prospettiva cruciale. Eppure, questa telecamera è assente dalla lista ufficiale delle indagini. Un enigmatico insieme di circostanze che solleva domande sulle scelte investigative. Altro ancora affiora dalle profonde pieghe del mistero. Le transazioni finanziarie di Liliana, tra cui un pagamento sospetto al casino a straia di Lipica, suscitano interrogativi sulle sue connessioni e sulle sfumature nascoste della sua vita. Nel panorama di dubbi e indizi, emerge l'eccezionale riflessione. Tutti parlano tranne la defunta protagonista di questa saga. Il caso Resinovich continua a tessere il suo intricato labirinto di incertezze e scoperte sorprendenti. Le indagini proseguono con zelo, scintille di luce cominciano ad emergere dalle ombre. Con ogni nuovo dettaglio scoperto, la trama di questo mistero si arricchisce, e forse, le risposte si stanno avvicinando. La verità, nascosta in profondità, sta gradualmente emergendo, mentre gli investigatori si addentrano nei segreti di questo avvincente rompicapo italiano.